Una battuta? C'è stato il cambio dopo tanti anni? Dopo tanti anni, è il primo cambio perché nel 2005 ero diventato consigliere regionale quindi non potevo fare il cambio con il nuovo eletto sindaco che era allora che fu Rosario Rivo e oggi lo faccio per la prima volta. Un auguri al nuovo sindaco? Un bocca al lupo soprattutto perché ci sarà tanto da fare visto che ha tanto entusiasmo, è circondato da tuttissima gente spero faccia bene perché comunque anche se sono il sindaco sciente amando questa città, auguro che il prossimo sindaco possa fare anche di più rispetto a quello che ho fatto io.